Colpo di scena al GF, Simona Tagli, pronta a varcare la porta rossa. Ecco quando! Lasciate un like e accendete la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Inoltre, commentate qui sotto! Dopo più di quattro mesi dall'avvio dell'edizione corrente del Grande Fratello, il reality show che tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori, la Casa di Cinecittà si prepara ad accogliere una nuova concorrente. La notizia ha suscitato grande curiosità e attesa tra i fan del programma, sempre pronti ad accogliere nuovi sviluppi e colpi di scena. Con l'annuncio del prolungamento del reality, che ora vedrà il suo epilogo nel mese di aprile, il conduttore Alfonso Signorini, insieme alla produzione del Grande Fratello, sono alla ricerca di nuovi volti capaci di infondere energia e dinamiche inedite all'interno della casa. Tra le ultime indiscrezioni circolate, spicca il nome di una nota showgirl che potrebbe varcare la famosa Porta Rossa già nella diretta di stasera, lunedì 5 febbraio. La showgirl in questione è Simona Tagli, un volto noto al pubblico italiano per la sua carriera televisiva e per la sua partecipazione, seppur breve, all'Isola dei Famosi nel lontano 2006. La sua esperienza nel reality show dell'isola si concluse dopo soltanto 12 ore di permanenza in Honduras, un ritiro che all'epoca fece molto discutere. Ora, a distanza di anni, Simona sembra pronta a immergersi in una nuova avventura televisiva, questa volta all'interno della casa più spiata d'Italia. La notizia del possibile ingresso di Simona Tagli nel Grande Fratello è stata diffusa dal giornalista Giuseppe Candela attraverso il suo account X, precedentemente noto come Twitter, suscitando immediato interesse e speculazioni su come la showgirl potrà inserirsi nelle dinamiche del gioco e quali novità porterà con sé. L'ingresso di una figura come Simona Tagli promette di aggiungere ulteriore pepe alla già ricca miscela di personalità presenti nella casa, offrendo nuovi spunti di riflessione e intrattenimento per il pubblico a casa. La sua esperienza pregressa nei reality e il suo background nel mondo dello spettacolo potrebbero rivelarsi elementi preziosi per animare le giornate e le serate all'interno del Grande Fratello, introducendo nuove dinamiche relazionali e potenzialmente nuove alleanze o conflitti. Mentre i fan del programma attendono con trepidazione la conferma ufficiale e l'eventuale ingresso di Simona Tagli nella casa, la curiosità intorno alla sua partecipazione e l'impatto che questa potrà avere sul gioco sono già alle stelle. La domanda che tutti si pongono è Simona Tagli sarà davvero la prossima concorrente a varcare la Porta Rossa del Grande Fratello? Solo la diretta di domani sera potrà svelare il mistero e offrire al pubblico una nuova, entusiasmante pagina di questa edizione del reality.